Sempre più incertezza per le sorti dello zuccherificio del Molise. Si lavora per emergenze, dicono dai sindacati, e non c'è programmazione per il futuro. E l'ultima emergenza, in ordine di tempo, una delle tante, è legata alla sorte di 16 lavoratori in esubero e in distacco presso l'Agnuco, che stando all'accordo dell'ottobre del 2012 dovevano essere riassorbiti dall'azienda. In questo anno e mezzo, fatto di alcuni mesi di cassa integrazione e di continui rinnovi del distacco, i dipendenti hanno continuato a lavorare in fabbrica. Ma ora in vista c'è l'ultima scadenza, quella del 30 aprile, e se la politica non prende una decisione, dal primo maggio i 16 operai saranno messi in mobilità, dunque licenziati. È sufficiente che la regione Molise e gli amministratori dello zuccherificio si riuniscano e mettano una firma su un pezzo di carta, scrive in una nota il Comitato dei Lavoratori. Alzatevi dalle sedie e girate il Molise per capire molti drammi che vivono i molisani, non fatevi vedere solo in campagna elettorale, affermano ancora i lavoratori, riferendosi agli amministratori regionali. E proprio su questa scia anche Antonio Di Lisio, RSU della CGL, invita una programmazione seria e lungo termine per rilanciare davvero lo zuccherificio di Termoli. Basta far politiche, basta primarie, bisogna pensare ai problemi della regione, tuona il sindacalista. Per questo è stato chiesto ancora una volta con insistenza un incontro in regione e da oggi in fabbrica è partito anche lo stato di agitazione. Il tutto mentre sullo sfondo c'è ancora da risolvere il problema del bilancio da mettere in pareggio e dell'accordo con i bieticoltori che non hanno ancora rinunciato ai soldi che gli spettano.